Technology Associates presente all'EMPOP 2013, che cosa significa per voi essere in questo contesto e che cosa presentate? Certamente, per Technology Associates l'EMPOP ha un grosso significato, abbiamo sviluppato diverse applicazioni per l'ambiente Milestone, quindi sono applicazioni native nel mondo Milestone, abbiamo cercato di interpretare alcuni segmenti del mercato dove Milestone ci ha sollecitato a sviluppare delle applicazioni. Sono passati alcuni anni, dato che è già dieci anni con quest'anno che lavoriamo con la Casa Danese, abbiamo finalizzato tre linee di prodotto per la gestione delle zone a traffico limitato delle città, per la gestione del controllo accessi in siti industriali e privati e degli osili per il pattugliamento stradale e della polizia. Quindi per noi Milestone è stato un coadiuvatore importante di tutte queste iniziative per poterle offrire sul mercato in modo professionale. Siete quindi a tutti gli effetti parte di questo ecosistema Milestone, ma che cosa significa per voi, quali benefici avete dall'ecosistema e anche quali obiettivi? Sì, il beneficio è significativo. La nostra azienda è un vendor a tutti gli effetti, produce software e integrazioni di ingegneria elettronica, che tipicamente è un mercato che si riesce a canalizzare molto bene se si sta all'interno di un ecosistema. Quindi offrire la nostra soluzione a rivenditori e a solution di Milestone è importante, perché loro hanno già una certa mentalità e determinate competenze. Noi cerchiamo di aggiungere del valore per tipologia di prodotto e di soluzione e questo chiude il concetto di ecosistema.